Oggi ci troviamo al Conad Superstore di Via del Novecento, quarto Conad che aderisce a questa rete di sostegno a recupero alimentare, una rete che viene rinforzata anche dalla donazione di un mezzo di trasporto refrigerato proprio per il recupero di questi alimenti. Noi oggi ringraziamo la Fondazione ProSolidare di Roma, la dottoressa Villa e il presidente Durante, che da un paio di anni seguono la Gulliver e Pesaro nel recupero alimentare. Quest'oggi inauguriamo questo nuovo furgoncino che ci permetterà ogni mattina di girare il Conad della città e fare un recupero alimentare molto importante. Il Conad in zona Celletta è il quarto punto vendita Conad che aderisce a questa rete della Onlus Gulliver, il secondo appartenente alla società Maxi Conad Montefeltro. Abbiamo deciso di aderire alla nostra società Maxi Conad Montefeltro che su peso opera su questi due negozi che è Via del Novecento e Pesaro, Via Largo Donatori del Sangue, dove ogni mattina abbiamo deciso di aderire all'associazione Gulliver e doniamo l'invenduto che è ancora recuperabile perché poi loro provvederanno poi dopo a distribuirlo a chi ne ha più bisogno. Noi cerchiamo sempre di operare nel territorio, viviamo qui, le nostre famiglie vivono qui, i nostri dipendenti, i nostri collaboratori vivono qui con le loro famiglie, cerchiamo di vivere in sinergia e nella nostra natura e l'abbiamo fatto volentieri anche questa volta. Per i supermercati coinvolti è un lavoro supplettivo di controllo delle date di scadenza, del controllo della validità dei prodotti che rischierebbero di andare sprecati e che invece vengono selezionati e accuratamente preparati per questo trasporto verso le famiglie beneficiarie. I nostri ragazzi ogni mattina selezionano i prodotti che giustamente hanno le caratteristiche necessarie per essere poi donati perché comunque sia devono essere utilizzabili, registrano tutti i quantitativi, questo vale sia per l'ortofrutta che il fresco confezionato, carne confezionata e prodotti di panetteria. Mediamente distribuiamo notevoli quantità giornaliere che siamo ben contenti di dare per riuscire ad aiutare chi ne ha più bisogno. Ricordiamo che le famiglie che intendono partecipare al progetto di recupero alimentare devono presentarsi alla fondazione Onlus Gulliver con requisito minimo, quello di una dichiarazione ISEE sotto gli 8.000 euro. Purtroppo ad oggi siamo arrivate a 1.150 persone per quasi 400 nuclei familiari che ogni settimana grazie a ProSolida e i Conad noi riusciamo a fornirgli un pacco alimentare molto abbondante, degno, parliamo di latte, mozzarella, salumi, formaggi e verdure con anche altre cose tipo pasta, latte e biscotti, questo grazie al banco alimentare. La povertà alimentare purtroppo è sempre in lenta crescita e noi riusciamo, ripeto, con questi partner a tentare di soddisfare e di aiutare queste famiglie. Grazie a tutti.